Ribadiamo la linea statutaria e confermiamo la scelta delle primarie di coalizione, a dirlo è la capogruppo in regione del PD, Micaela Fanelli, che interviene nel dibattito interno alla coalizione di centrosinistra. Un intervento il suo diretto, soprattutto in direzione del Movimento 5 Stelle, che sullo strumento primarie ha già da tempo manifestato poca disponibilità. Lo statuto che vuole dare voce ai cittadini molisani al metodo democratico, che può essere soltanto quello che siano i molisani in ogni parte della regione, recandosi a gazebo o nelle modalità che preferiscono il Movimento 5 Stelle, che preferisce il tavolo che sta organizzando il campo progressista, per esprimere la preferenza sulla leadership. Importante è chiarire anche la posizione verso l'area centrista, l'unica preclusione sul campo e rispetto ad alleanze con chi ha avuto responsabilità dirette nel governo Toma. Il campo largo non va predicato, va fatto, va cercato ogni tipo di intesa sui programmi, sulla qualità delle persone che ci sono, per individuare la coalizione più capace di arrivare a una vittoria elettorale. Certo, Toma sta dall'altro lato. Chi ha condiviso la parte fondativa del programma e dell'azione di Toma non può stare nel campo del centrosinistra, che si propone come una forza antagonista. Variabile di rilievo nel quadro politico regionale sono i movimenti civici per i quali Fanelli propone il massimo coinvolgimento. Io credo che abbiano pari dignità di stare al tavolo in tutte le interlocuzioni, in tutti i negoziati che riguardano il futuro della coalizione. Bene che vi partecipino i partiti minori, bene che partecipino le liste civiche con pari dignità. Questo è importante per motivare, per far sentire ognuno parte. I partiti sono importanti, ma appunto sono solo un pezzo, parte del ragionamento.